E' stato recuperato dalle squadre dei Vigili del Fuoco il corpo senza vita del pilota del caccia militare Eurofighter del 37esimo stormo, precipitato nella serata di ieri mentre stava facendo rientro da una missione alla base di Trapani Birgi. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Locco Grande, a pochi chilometri a nord di Marsala, dove l'aereo si è schiantato per cause ancora da accertare. Le ricerche, svolte con l'ausilio di palloni illuminanti, sono state condotte dai Vigili del Fuoco che hanno individuato, insieme ad un team dell'Aeronautica militare, i resti del caccia nell'alveo di un fiume. Il pilota morto nell'impatto si chiamava Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta. Stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando prima di avviarsi all'atterraggio è precipitato al suolo. L'impatto che non ha causato danni ad altre persone o cose è avvenuto in una zona agricola a circa due miglia a sud-est della base aerea siciliana. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Luca Goretti, a nome dell'intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e Cordoglio. Altruda è entrato in aeronautica militare con il corso regionale IBIS dell'Accademia di Pozzuoli nel 2007. Pilota Combat Lady, sovverivolo Eurofighter in forza al 37esimo storno di Trapani dal marzo 2021. Aveva all'attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing NATO. L'aeronautica militare ha avviato un'inchiesta di sicurezza del volo. Grazie. Grazie. Grazie.